Siamo qui nel reparto di ematologia per la consegna consueta delle uova di Pasqua, quest'anno gentilmente offerta da un'azienda farmaceutica. Siamo qui con il dottor Visani per fare questo piccolo omaggio, questo piccolo pensiero al dottor Visani e agli infermieri che tanto stanno dando e tanto daranno a questa giusta causa. Qui con noi ci sono due nostri pazienti che sono rappresentanti di tutti i pazienti che seguiamo. Qui praticamente c'è un giro di pazienti che è superiore a 4.000 per dare un'idea che ruotano attorno all'ematologia. È chiaro che in un momento come questo non possiamo entrare nel reparto, siamo in ambulatorio adesso, però abbiamo desiderato che loro fossero presenti oltre alle nostre infermiere che sono qui e alle nostre data manager che gestiscono tutti gli aspetti relativi ai dati. I dati sono importantissimi, adesso vogliamo fare qualcosa di nuovo per i pazienti, per riuscire a poter seguire e avere presto dei farmaci validi e che spesso arrivano sul mercato anni dopo. Quindi grazie a tutti, è un'occasione per farci gli auguri, per fare gli auguri a tutti quelli che insomma in qualche modo hanno a che fare con l'ematologia e cerchiamo di fare del nostro meglio. L'AIL, la sezione di Pesaro, vuole fare gli auguri di buona Pasqua chiaramente a tutto lo staff del dottor Visani e abbracciare, purtroppo non in diretta, tutti i pazienti che vengono curati dall'equip del dottor Visani con ottimi risultati. Vi ricordo che siamo tra i primi in Italia e anche in Europa per le cure nel reparto ematologia e soprattutto per le cure domiciliari e stiamo spingendo in maniera veramente forte e questo mi interessa dirlo per quanto riguarda la ricerca, perché la ricerca è la parte più importante e la parte che ci aiuta ad andare avanti. Un grazie di cuore a Pesaro, alla comunità di Pesaro, perché ci ha fatto raggiungere un risultato ve lo dico veramente col cuore, inaspettato per quanto riguarda la campagna delle uova di Pasqua. Il momento di consegna si è poi spostato a Casa AIL, dove le uova sono state donate ai pazienti della struttura dopo la benedizione pasquale presenziata da Don Marco di Giorgio.